Buondi ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, intanto vi vedo già in paranoia ancora per Giuntoli. Mi arrivano una marea di DM su Instagram. Ma colpo, ma Giuntoli è! Chiariamo una cosa per tutte. Cioè Giuntoli arriverà alla Juve. Non si sa con quali tempistiche ragazzi. Perché c'è, da quel punto di vista, totale silenzio. Ma arriverà, lo dicono tutti, tutti che arriverà. Lo dice Di Marzio, lo dice Nico Schira, lo dice chi è vicino alla Juve, lo dice Tutto Sport. Bisogna aspettare che si liberi. E affinché si liberi, De Laurentiis dovrà decidere un paio di cosettine. Intanto ha già preso l'allenatore e un passetto avanti, Rudy Garcia, è lì. Ha preso lo stadio per altri cinque anni. Insomma, si stava un paio di cosettine e molto probabilmente poi libererà Giuntoli che si unirà alla Juventus. Nel frattempo la Juventus non è che ha preso o ha sondato altri profili. Perché ci sono altri profili comunque interessanti. C'è comunque ragazzi Tare in giro e non mi pare che sia stato contattato dalla Juventus. C'è Massara che è in giro e non è stato assolutamente contattato. Per cui ad oggi c'è una piramide societaria che non è che mi convinca troppo sul lungo periodo. In attesa di Giuntoli ci può anche stare. In questo momento alla direzione sportiva c'è Manna, che è promosso internamente ad Interim, che collabora a Stretto Giro con Tognozzi e Chiellini. Sì, Claudio Chiellini, il fratello di Giorgio, che è tornato per gestire la direzione sportiva della Next Gen. Poi c'è Cherubini che fa la unione tra la prima squadra e Next Gen, supervisiona un po' la situazione. Poi c'è ovviamente Calvo che è al pari di Manna. Lui è CFO, ovviamente decide con Manna quale operazione portare avanti, cosa bisogna fare, traccia più che altro una situazione legata all'economia della squadra stessa e non entra nello specifico in questioni di natura tecnica, per intenderci. Poi arriverà Giuntoli e sarà lui in cima a questa piramide insieme a Calvo. E Manna probabilmente sarà uno stretto collaboratore. Possiamo ipotizzarla un po' alla Marotta Paratici, ok? Ecco, Manna con Giuntoli, Giuntoli fa il Marotta e ovviamente Manna fa il Paratici della situazione. Possiamo vederla un po' così. E Calvo invece è più legato, ripeto, a questioni di natura economica e non tecnica. Questa è la situazione in questo momento, per cui ci andrei calmo. Ora, io ragazzi mi sono confrontato con diverse persone che seguono la Juventus, che conoscono, che sanno, prendono informazioni e il quadro che mi è stato delineato è questo qua e così ve lo svelo. La Juventus in questo momento ha deciso di tenere Allegri per la prossima stagione e non è stata fatta una scelta dal punto di vista, secondo me, corretta in questo senso. Però ha un senso, che io non condivido, ma ha un senso. Ovvero, loro in questo momento dovranno sicuramente tagliare tanto dalla rosa, tanto dalla rosa. Quindi qualche ingaggio pesante andrà via. Abbiamo pensato tutti a Lucian Vlaovic, qualcuno ci mette anche Chiesa, che la Gazzetta, insomma, ha tirato fuori sta notizia della richiesta di Chiesa folle di 8 milioni netti a stagione. Questo è quello che vorrebbe il buon Federico. Vediamo cosa succederà anche là, perché comunque il suo contratto è il 2025 che scade. Quindi bisogna sicuramente ricucire tanto i rapporti per cercare di chiudere un eventuale rinnovo, per avere una maggiore tranquillità, perché poi risultiamo ricattabili dal punto di vista economico-finanziario. In caso di offerte che vanno a ribasso, sempre per il cartellino di Chiesa. Però, insomma, c'è da smaltire un po' di costi, c'è da tagliare qua e là, tra ingaggi, fare delle plusvalenze di conseguenza, per migliorare quello che è il bilancio attuale. Infatti la Juventus, già in questa settimana, credo che lavorerà in quel senso. Intanto abbiamo già ceduto Kuluseschi, mi aspettavo una plusvalenza migliore, in realtà è di 12,5 milioni, se non vado errato l'effetto positivo della plusvalenza stesso. È uscito il comunicato della Juventus. Però c'è da piazzare McKennie, che ha delle offerte dalla Turchia, e la Juventus, insomma, cercherà di cederlo da qualche parte. Zaccaria, mi pare che sia anche lui destinato ad uscire. Arturo, molto probabilmente, vista comunque la rimanenza residua d'ammortamento, bisognerebbe cedere da 50 milioni per non fare minusvalenze, è molto probabile che invece andrà ceduto in prestito per un altro anno, dove la squadra che lo accoglierà, si accollerà parte o interamente l'ingaggio del giocatore. Quindi vediamo. Però, insomma, la Juventus è già attiva e vuole tagliare queste spese. Tiene allegri perché in questo momento andare a prendere un altro allenatore emergente in una situazione dove devi tagliare e non devi ripartire immediatamente sulla programmazione rischi a di bruciare un allenatore e quindi la Juventus società si è, diciamo, ha deciso di tenere allegri come nella comfort zone, una persona che magari comunque ti può portare tra le prime quattro, al di là di chi daremo via, eccetera, e poi l'anno prossimo magari si riparte con una nuova guida tecnica. Questa credo che sia l'idea dei dirigenti e quello che mi è stato spiegato. Io invece la trovo una mancata opportunità per un nuovo allenatore di inserire già dei meccanismi di gioco e delle basi per ripartire alla grande. Perché poi, nella programmazione pazzesca, che ci sarà l'anno prossimo anche in vista degli europei, un allenatore si troverà a lavorare immediatamente con la squadra, far metabolizzare immediatamente quelli che sono gli eventuali meccanismi di gioco, l'identità del gioco stesso proposta dal nuovo allenatore e poi inizia subito la Champions e dicembre arriva in fretta e se non si è metabolizzato il gioco rischia di uscire anzitempo da un eventuale Champions sempre che lo stesso Allegri ci arrivi a quelle prime quattro posizioni. Cioè, questa è la mia preoccupazione più grande. Però, in fin dei conti, se io faccio una valutazione di natura solamente economica e visto i considerati costi che devo tagliare qua e là, per poi l'anno prossimo invece ripartire, anche magari investendo, ma con una nuova guida tecnica, con nuovi giocatori, eccetera, beh, qualche ragionamento lo faccio in tal senso. Per cui vediamo che cosa succederà. E poi, questa sarà una settimana, ragazzi, pazzesca, perché potrebbero esserci tantissime novità, tantissime, dalle cessioni a un'eventuale risposta di Adrien Rabiot, che ha un'offerta di contratto e Madame Veronique ci sta pensando. La Juventus ha vari incontri sui esterni e di questo ne parliamo nel secondo video di giornata per approfondire ogni situazione, anche perché ho bisogno di prendere un taccuino, mettere i numeri alla mano e cercare un po' di comprendere l'eventuale sviluppo del calciomercato stesso. Quali possono essere i scenari, parlando anche sul piano tecnico, cosa sto perdendo in termini di golle assist e cosa sto andando a prendere, perché anche questo è un fatto che va considerato, perché le attitudini, le abitudini dei giocatori a incidere e determinare nelle partite, insomma, quali sono le caratteristiche di un giocatore? Noi perdiamo con Vlaovic e con Rabiot 20 gol. 20 gol! Vi ricordate la stronzata, ragazzi, quando era andato via Ronaldo? Ah, ma quando va via Ronaldo perdiamo 30 gol, ma li ridistribuiamo col gioco e con la squadra. E questa cosa non si è avverata poi l'anno scorso. Per cui io continuo a tenere, soprattutto siccome c'è lo stesso allenatore, tengo, tengo, strettissimo quel ragionamento e ve lo ripropongo, così com'è, perché c'è bisogno di giocatori che abbiano assist e gol nelle gambe, perché la Juventus è una squadra che segna troppo poco e che ha bisogno, in questo senso, di giocatori che siano in grado di incidere. Dagli esterni bassi, che comunque non sono portatori tanto di gol in generale, ma sono molto bravi magari nella rifinitura, nel creare degli assist, nel creare delle situazioni interessanti, per intenderci. Per cui questo, ma il centrocampista, la mezzala, Pogba non l'abbiamo visto, per cui risulta un non classificato, potrebbe portare 10 gol l'anno prossimo, se sta bene. Speriamo a sto punto. Però Rabiot intanto va via. Chi prendiamo al suo posto? Bella domanda. Rovella, non ditemi Rovella, ragazzi, perché Rovella va via Paredes e arriva a Rovella, perché quello è il ruolo che andrà a ricoprire Rovella. Per cui, insomma, sono argomenti che ragazzi comunque tenderò ad argomentare e approfondire ovviamente nel prossimo video. E quindi, ragioniamo sul mercato concretamente, vogliamo fare veramente come quelli là di Moneyball, eccetera. Facciamo come quelli di Moneyball, ragioniamo economicamente, ragioniamo di gol, di assist, e cercherò di fare un'analisi chiara con statistiche e magari con qualche grafica per semplificarvi di tutto. Vi aspetta più tardi. Un abbraccio a voi, ragazzi, e sempre fino alla fine. Forza Juve. Poi ditemi la vostra opinione, se vi sembra che sia così la situazione. Cioè, la società tiene allegri, perché deve tagliare, smussare tanto in termini di rosa, non vuole prendere un allenatore in una situazione dove invece deve tagliare gli elementi e non aggiungere magari elementi estremamente qualitativi, e poi l'anno prossimo si riparte magari con degli investimenti più mirati e con una nuova guida tecnica che sia in grado di valorizzare già quel che c'è. Ditemi come me l'ha pensato. Io ve l'ho detta la mia opinione. Non mi convince totalmente questa idea, perché secondo me è un anno di lavoro che manca, ok? E che quell'anno che serve per metabolizzare il tutto magari l'hanno sbagliato. Un anno che magari siamo qualificati in Champions League e però mettiamo a rischio magari la qualificazione, perché c'erano delle cose che ci mettiano un po' a ingranare e certe situazioni devono migliorare. Insomma, rischiamo di partire col piede sbagliato con il nuovo allenatore. Secondo me ci sono più rischi l'anno prossimo, ecco. Questo poteva essere un anno per gettare le basi e un anno anche dove è concesso a sbagliare vista la situazione. Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e sempre fino alla fine. Forza Juve! Grazie! Grazie!